Uno dei modelli che si potrebbe generare e che potrebbe aiutare la nascita di questa economia potrebbe essere quello delle cooperative di comunità, perché le cooperative di comunità metterebbero insieme più persone, potrebbero creare dei gruppi di acquisto, quindi ridurre il costo di acquisto delle materie prime, potrebbero anche stipulare convenzioni con banche e quant'altro per avere finanziamenti per poter installare gli impianti e potrebbero anche gestire la produzione e la vendita di questa energia alla rete. Iniziano già in vari stati, soprattutto Nord Europa, delle smart grid e delle cooperative di comunità che stanno dimostrando come effettivamente ci sia una riduzione dei costi dell'energia del 30%, di come ormai le energie rinnovabili abbiano raggiunto una maturità tale da autosostenersi e addirittura da poter far concorrenza alle energie fossili. Tant'è che la stessa Autorità per l'energia europea, nei suoi vari rapporti, ha detto guardate che la riduzione dei consumi di gas e di fonti fossili non è solo dovuta alla crisi economica. Questa riduzione è molto maggiore e molto più persistente perché è dovuta alla produzione di energie rinnovabili. Le energie rinnovabili hanno veramente iniziato un processo di sostituzione dell'energia dalle fonti fossili e questo è dimostrato da vari rapporti, tra cui la stessa Autorità per l'energia europea, in Germania la politica che c'è stata sulle rinnovabili è stata il programma dei 100.000 tetti fotovoltaici, cioè c'era un programma tale che tu chiedevi il finanziamento alla banca per installare il tetto fotovoltaico garantito dallo Stato, il pianto fotovoltaico ha una vita utile di 20-25 anni, i primi 7-8 anni che vendevi corrente elettrica alla rete li usavi per ripagare il debito che avevi fatto e il restante era la tua produzione. Le comunità locali che avevano aree dismesse tipo aeroporti abbandonati, zone industriali, lì hanno costruito impianti fotovoltaici. Questo è stato il modello tedesco, tant'è che si vedono molti più tetti fotovoltaici che non grossi campi fotovoltaici. Altri modelli non sono stati così, l'Italia ha puntato sui grossi impianti, i grossi campi fotovoltaici. Se invece ci fosse una generazione diffusa che non produce fumi tossici, non danneggia l'ambiente, non consuma il suolo, ma che fa lavorare 10-20 aziende locali, moltiplicalo per tutti i centri abitati, non dico grosse città, i centri abitati d'Italia sicuramente ha altri impatti, tant'è che basta vedere i dati che ci sono già. I 6 miliardi di incentivi che sono stati dati alle fonti rinnovabili e poi sono stati cancellati col quinto conto energia, hanno generato 50 mila posti di lavoro. I 14 miliardi che attualmente vengono dati alle fonti fossili, quanti posti di lavoro hanno generato? Se incominciamo a pensare a smart grid, a generazione diffusa, a network, incominciamo a pensare anche che anche i costi di distribuzione della corrente elettrica si riducono. Perché? Come appunto mi insegnavano a una delle prime lezioni di fisica tecnica al Politecnico, la corrente elettrica è una bella signorina col nasino all'insù che non si lascia trasportare da nessuna parte. Quindi avere un unico punto di produzione di energia elettrica e poi distribuire la corrente elettrica per chilometri e chilometri, solo per effetto Joule, c'è un'enorme perdita di potenza. Mentre la corrente viene prodotta, consumata a pochi metri o a pochi chilometri, dove però c'è l'altro centro che sta producendo e quindi avendo questo continuo interscambio, produzione-consumo, la corrente percorre pochissima strada. Tant'è che in prospettiva potrebbe anche venire superata la questione della corrente alternata. Cioè potrebbe anche semplicemente sfruttarsi la corrente continua. Perché a quel punto le perdite di carico sarebbero molto basse.